Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della carriera natore con il Bari su FIFA 23 Mi raccomando ragazzi continuate a supportare la carriera con un bel mi piace Arriviamo a 1000 mi piace se volete il prossimo episodio Domani come sempre alle ore 14 Siamo ora nel momento cruciale della stagione Per lottare per la salvezza Siamo al quindicesimo posto come vedete Siamo a più uno però dal diciottesimo posto Dove sta militando il Monza pari punti con il Parma Sono arrivati i giocatori che dovranno aiutarci su tutti i gatti Ma anche Amrabat Bisogna andare avanti spediti Avremo Cagliari, Milan, Elas Verona e Sassuolo Quella col Cagliari forse la partita un pochettino più abbordabile Giocheremo anche contro l'Atalanta e chiuderemo contro l'Inter Sarà molto molto tosta Poi avremo Juve, Monza, Torino, Napoli, Fiorentina, Samp E poi Bologna, Roma, Salernitana e Parma Quindi direi che nei prossimi questo più altri due episodi Dovremmo chiudere la stagione e vedremo se ci saremo salvati O se insomma sarà di nuovo Serie B Andiamo ad affrontare il Cagliari Prima partita dell'episodio Giocheremo in casa Prima partita per Gatti In panchina ci sarà anche Viviani Del resto è la nostra formazione Castrovilli titolare con Esposito che scarpita dalla panchina Andiamo ad affrontare questo Cagliari E vediamo di iniziare col piede giusto Eccoci qua al San Nicola Per questa prima partita dell'episodio Giornata 23 Di questo campionato Che vogliamo assolutamente onorare Vogliamo restare in questa Serie A Conta la rosa Amrabat controlla il pallone Gira molto bene però line Attenzione può crossare in mezzo Bel pallone sul secondo palo Salcedo è passato C'è Castrovilli la tiene Prova il tiro a giro Murato Sarà calcio ad angolo Marco Rock dentro Bravo Amrabat che legge bene questa linea di passaggio Ora ripartiamo con Gaetano Chiede palla Il pistolero viene servito Attenzione Che può involarsi verso la porta Il pistolero Col destro Trova subito il primo gol dell'episodio 1-0 Al diciannovesimo minuto Come il suo numero di maglia Il pistolero è scatenato Guanzèbe sale e palla al piede Amrabat che sta toccando tanti palloni Allarga per Quagliata Che riesce a tenere il pallone Può provare anche il cross Bel pallone dall'altra parte Online No Miracolo di Cragno Ma credo fosse fuori gioco Sì L'uomo Cragno sempre sempre a rompere le palle Calcio di punizione Bravissimo Gatti di testa Ovviamente in mezzo alla difesa Si vede la sua presenza Piontek porta avanti il pallone Ora sterza Aspetta l'arrivo di qualcuno La lascia su Olaina Ancora Piontek Attenzione dietro C'è Eddie Salcedo Sul primo palo Buccata la loro difesa Buccato l'uomo Cragno 2-0 Come gioca bene questo Bari Bravo Piontek da dietro Mamma che partita che sta facendo È partito Eddie Salcedo Attenzione Si invola verso la porta anche lui Riesce a tirare Questa volta Cragno la para Gatti Tocca su Olaina In mezzo la palla passa per Eddie Salcedo Andiamola a chiudere No palo Non ci credo Passato molto bene Ivi Dentro l'area Attenzione Tocco dentro Marco Rog Ed eccolo qua il 2-1 Alla fine del primo tempo Non ci voleva questo gol L'hanno riaperta con Verdi Dai vediamo di iniziare bene il secondo tempo Come stavamo facendo il primo Gaetano l'alza su Olaina Siamo partiti molto forte Olaina al cross Edith Salcedo Palla ancora lì Non ci credo Palla lunga per Pedro Mendes Prolunga molto bene per Lopez Grande Caprile Ivi bel pallone per Pedro Mendes Grande Caprile Porta vuota Dai non ci credo Ha segnato Hakan Non so chi sia L'hanno pareggiata Hanno fatto praticamente tre tiri Due gol Pedro Mendes Ancorasis per Lopez Mamma mia Pedro Mendes Che belle sponde che fa Olaina un po' Il ritardo da dietro Solo giallo Meno male Calcio di punizione per loro Sempre pericolosi Alta di Verdi Rinvia subito Cragno Controllo non eccezionale Ma qua Ivi fa un doppio sombrero Con il petto Bravissimo Fontana Rosa Di Cattiveria Tocca su Esposito Che appena è entrato Dai attacchiamo Vai Esposito La alza molto bene Per Eddie Salcedo Alta Sopra la traversa Rinvio di Cragno Bravo Gaetano di testa Pascal Leone Appena è entrato Prova ad alzarla Su Eddie Salcedo Che non riesce a fare la sponda Qua Leone la deve prendere di testa Bravissimo Su Esposito Tiene il pallone Sta arrivando a grande velocità Licoianis Attenzione all'ex Licoianis Bruttissimo tiro Pedro Mendes Palla larga per Bellanova Mancano pochi minuti È passato ancora Ivi Non so chi sia questo Abbiamo subito gol da Ivi 2 a 3 per il Cagliari Ce l'hanno rimontata Una partita che era in controllo Nel primo tempo Mamma mia Quanto sto rosicando Niente purtroppo abbiamo perso Questa partita Brucia tantissimo Perché questi erano tre punti Pulitissimi da fare Invece perdiamo lo scontro di arte Contro il Cagliari Il Parma ci ha scavalcato Siamo comunque sempre a più uno Dal Monza Per la retrocessione Il Monza tra l'altro anche con una gara in più Adesso abbiamo il Milan Che è al terzo posto Sarà giocando il campionato sicuramente con la Juve e le altre È una partita in cui non posso chiedere troppo ai miei giocatori Giocherà in posto titolare Anche lì con Iannis al posto di Quagliato Del resto la formazione è la stessa dell'altra partita È tutto pronto a San Siro Tutto esaurito come sempre Per questa ventiquattresima giornata Milan-Bare Abbiamo detto tutto prima della partita Gara difficilissima Però bisogna riprendersi Bisogna giocare ogni partita come se fosse l'ultima Renan Lodi Largo sulla fascia Va in mezzo De Ketelara ancora Renan Lodi Raffa Leao Gran gol 1-0 Il Milan è nettamente più forte Brutto fallo qua di Raffa Leao Olaina Forse sei anche infortunato sul fallo di Raffa Leao Calcio di punizione per noi Da posizione abbastanza interessante Ma sapete che provo una giocata strana Provo a dare la palla a Lico Iannis Che però è un mancino Mi aspettavo un destro di qua Proviamo a rigiocarla adesso per Gaetano Che c'ha un po' di spazio Cross in mezzo E di Salcedo Bruttissima Direi di fare il cambio comunque di Olaina Dentro Quagliata Che giocherà da questa parte Uh Contropiede per loro De Ketelara In posizione regolare Tuanzibeda in seguire Esce anche Caprile Palla ancora lì Bravo Fontana Rosa Beh è riscatto tantissimo Calcio d'angolo in mezzo De Ketelar No Gran gol di De Ketelar Di testa come l'andata 2-0 per il Milan Quagliata Appena iniziato il secondo tempo Vediamo di partire forte Provare a sorprendere Di Salcedo Tiene in qualche modo il pallone Poi Quagliata Ancora verso E di Salcedo Fuori Amrabat Deve provare la botta Alta Sopra attraverso Rafa Leao Palla per De Ketelar Sono 2 contro 1 Attenzione a De Ketelar Tocca dentro La va a chiudere Anterevic appena entrato Niente Siamo sul 3-0 È irrecuperabile GG per il Milan Andiamo al risultato Finisce 4-1 Segnato Gaetano Per Rafa Leao Veramente peccato Continuiamo a subire Troppi 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 gol E oltre al brutto risultato Arriva anche la brutta notizia Su Olaina 3 mesi di stop Frattura al dito del piede Questa è una mancanza Che si farà sentire Perché Olaina Era il nostro titolare a destra Abbiamo soltanto Rueg E chissà Potremmo anche intervenire Sul mercato Prendere uno svincolato Abbiamo un po' di nomi Sulla lista Dei preferiti Vediamo un pochettino Però 3 mesi sono tanti Praticamente la stagione È finita È un infortunio grave Per il momento Mettiamo Rueg Però non ci voleva Ora ragazzi Affronteremo Lella Sverona Stiamo perdendo posizioni Bisogna cominciare A fare dei punti Lella Sverona Può essere un'occasione Anche se è una bella squadra Questa è la nostra titolare Andiamo a giocarci questa partita E vediamo di tornare alla vittoria Piove Bari Per questa 25esima Se non sbaglio Giornata di campionato Contro Lella Sverona Esatto Squadra Che si trova a metà classifica Che sta magari lottando Per l'Europa È una squadra forte Ma bisogna Fare i punti Queste sono le partite da vincere O da comunque provare A pareggiare Vigliar Palla verso Barak Ancora loro In mezzo Subito Voland Come all'andata 1-0 Non ci siamo proprio Barak tocca dietro Su Rosario Quindi Oxley Chamberlain Mamma che squadra Che c'ha Lella Sverona C'ha veramente dei nomi importanti Chamberlain allarga Su Bamba La mette giù Molto bene L'ex Lille Perde il pallone Perché viene murato Amrabat Ripartiamo con Gaetano Che si gira molto bene Poi Pascal Leone Partito Eddie Salcedo Viene servito Contro di lui Glioriente Che è molto veloce Eddie Salcedo Può provare ad incrociare Col destro Bravo Montipò Ma Gaetano Dalla bandierina La mette sul secondo palo Ci arrivano loro Fontana Rosa di testa Verso Pascal Leone Ancora Montipò Stiamo faticando tanto Ottavio Dalla bandierina Va al tocco corto C'è sempre ne è passato Molto bene Poi tocca fuori Sul brasiliano Ottavio Antony Ibarra Col mancino Sono troppo forti Hanno nomi troppo forti E facciamo fatica a difendere Per quanto possiamo mettere Gente in difesa Forte Mettere cinque difensori Trovano sempre il buco E non so dove mettere mano Ragazzi Sono in difficoltà Nuovamente Occhio d'Otavio Palla fuori Gonzalo Villar L'ex Roma È passato in qualche modo Che due coglioni sto gioco Dai Mi sono rotto i coglioni però Siamo all'otto novembre Già voglio cambiare gioco Già voglio rompere sto FIFA Ma Due coglioni però Cioè non è che posso controllare Tutti i giocatori Perché ci sono sti buchi in difesa Subiamo il quarto E veramente Siamo in crisi nera Ottavio la lascia scorrere Occhio All'Elas Verona dentro Barak fuori Poi dentro Da Volant Mi sono rotto i coglioni Ma com'è possibile Che subisco quattro gol Dall'Elas Verona Che c'è uno squadrone Tra l'altro Sei a due Sei a due Ragazzi Ma come cazzo si fa Come direbbe Sequel Arriva reso conto Da primavera Che due palle Engaggiamo questo Alla Serbia invece Non ci trova Niente Vediamo dall'Italia invece Lui È un altro portiere Basta Mi sono rotto il cazzo Dei portieri Lui lo continuiamo a seguire Mentre questi due niente Ora affrontiamo il Sassuolo Che si trova all'ottavo posto Noi siamo a pari punti Col Monza A meno uno dal Parma Siamo messi veramente male Perché poi quelle dietro Se vincono anche solo una partita Ci scavalcano La del Sassuolo È una squadra molto forte Con tanti giovani forti Eccoci qua Il Mapei Stadium Per affrontare il Sassuolo Ottavo in classifica Sta lottando per la Conference Per l'Europa League Calcio di punizione Per il Sassuolo Mamma mia Che fa Tuanz e Be Ma vaffanculo ragazzi Ripartiamo Gatti Tuanz e Be Prestano veramente altissimi Tuanz e Be Gira su quagliata C'è un po' di spazio Dai Proviamo a pungerli Lazetic Pascal Leon Palla Non male Pascal Leon 1-1 L'abbiamo pareggiata Bravissimo Esposito Recupera un buon pallone C'è Lazetic in mezzo Può fare la sponda Bene Per Gaetano Gran gol di Gaetano Di azione Che recupero di Esposito Bella sponda Del giovane Lazetic E poi Gaetano Si butta dentro E segna il gol del 2-1 L'abbiamo ribaltata Ma ancora lunghissima Della vega da calcio d'angolo Cristaldo Prova a passare Ma Gaetano ha recuperato Un buon pallone Attenzione che siamo al 42esimo Qua Pascal Leon Deve aiutarmi Lo osserviamo 1-2 Perfetto Vai Gaetano Spingi Spingi Gaetano Spingi Gaetano Deve provare col mancino Per forza Era il massimo Che potevo fare Calcio d'angolo Proprio Gaetano Sta facendo tutto lui Palla ancora per noi Esposito Ancora Gaetano Metti dentro un bel pallone Per Pascal Leon 2-1 3-1 Anzi Fuori casa Alla fine del primo tempo Grandissimo Pascal Che merita la titolarità Della vega si è girato Molto bene Attenzione all'argentino Non va al tiro Perché è murato Occhio No 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 ragazzi Dai ma non è possibile Che ogni contrasto Ogni rimpallo Va a loro Cioè è pazzesco Hanno fatto due gol Uno più merdoso Dell'altro Esposito Verso Leon Può far partire Un suo compagno Bella palla Per Gaetano Uscito Rulli Tocco sotto Troppo alto Passa molto bene Sassuolo Wahi Bravissimo Amrabat Che poi serve Quagliata Possiamo provare a ripartire Assolutamente Sì Va in velocità Quagliata Serve Lazetich Che tiene bene il possesso Poi possedere ancora Quagliata Ancora dentro verso Lazetich Lontanissimo dalla porta Ma sta aiutando tanto A livello tattico Eccolo qua Lazetich Attenzione Sarebbe importante Per lui il gol Bel tiro Un po' fuori Ma bello potente Calcio di punizione Della Vega In mezzo Ci arriva Esposito Poi Gaetano Prova a lottare Ma la palla ancora Per loro Bravissimo Quagliata Sta facendo un partitone Poi perdiamo un pallone Un po' velenoso Bravo Tuanzibé Ho provato a spazzare Ho provato a spazzare Vincolo anche questo contrasto Che due Meno male che è fuorigioco Tocco di mano Mi sono rotto il cazzo Di sto gioco In difesa Non si può spazzare Perché ci mettono un'ora E se deve andare da loro Va da loro Sembra che hanno la calamita EA Sports Fate qualcosa È un gioco di merda È rotto FIFA 23 È un gioco di merda È quello dico Ancora loro Ultimi secondi Di questo Secondo tempo E di partita Gibbs White Avanza col pallone Difendiamo Siamo chiusissimi L'arbitro fischia L'hanno giocata malissimo Questa ripartenza Due a tre Vinciamo col Sassuolo In qualche modo Una partita Veramente brutta Facciamo comunque tre punti Che sono importantissimi Per la nostra classifica È arrivata un'offerta Per Lico Jannis Che mi ha chiesto L'accessione Perché per lui Sta giocando poco Un po' come per Zucconi Da quando l'ho messo a titolare Rompe il cazzo Però adesso Insomma non lo vado a vendere Perché mi serve Perché ho line Jannis è rotto Quindi deve giocare titolare In generale dopo l'ultima vittoria Come vedete Siamo a 22 punti Siamo a meno uno Da un po' di squadre Sopra di noi Siamo a più tre Dal Monza E a più cinque Da Cagliari Lecce all'ultimo posto Quindi non stiamo facendo Proprio benissimo Adesso avremo l'Atalanta Che è una squadra Molto molto ostica Si trova tra l'altro Anche in zona Europa Io confermerei Lo stesso undici Della scorsa partita Che ha giocato molto bene Quindi stessa squadra Che ha vinto Non si cambia Eccoci qua il Gaywee Stadium Sotto la pioggia Per la ventisettesima giornata Di campionato Ne manca questa Più altre dodici Più altre undici Anzi Per questo finale di stagione Stiamo messi abbastanza male Meno male che abbiamo vinto Contro lo Sassuolo Non so in che modo Perché è stata una partita Veramente veramente brutta Ora con l'Atalanta Non mi aspetto nulla Però bisogna Rosicchiare punti In ogni partita Cercare di dare il massimo In ogni partita Gaetano Palla dentro per L'Aztic C'ha un po' di spazio L'Aztic Va al tiro No non riesce Palla larga per Gosens Terza molto bene Poi tocca dietro Da Sergi Darder Ancora Gosens Allunga il palone Su Gerlard Lex Lecce tra l'altro Palo Robin Gosens Allunga il palone Ci è arrivato Onezebe Quindi Sofiana Amrabat La lascia per Gaetano Il faro del nostro Gioco Si fa vedere L'Aztic Gran palla L'Aztic Devi fare l'1-0 Eccolo qua Segna Marco L'Aztic L'1-0 No pure Quagliata Si è fatto male No dai ragazzi Non è possibile Pure Quagliata Occhio a Gellart Non la tocca in mezzo Invece si Palla ancora lì Non c'è nessuno C'è lì Kojannis Che spazza Siamo messi malissimo Se si fa male Anche Quagliata Occhio però Anche all'Atalanta Proprio da quel lato Bravissimo Caprile Miracoloso E purtroppo Dobbiamo tirare fuori Anche Quagliata Deve giocare Rueg Per forza Gellart Si gira abbastanza bene No è passato Bravo Gatti All'ultimo Alvaro Morata Tuanzebe Su di lui Ancora Tuanzebe Palla per arriva loro Morata Se l'allungata Gatti Non ci credo Non ci credo Non ci credo Dai ma che intervento è Di Gatti Ma che due coglioni Subisco un botto di gol Ma per delle stronzate Palla lunga per Alvaro Morata Siamo un pochettino scoperti Gatti su di lui Bravo Caprile Sul primo palo Vadarder dalla bandierina Bel pallone in mezzo Bravo Caprile Calcio di punizione Per noi Da posizione Abbastanza Interessante Proviamo a servire Rueg Verso Amrabat C'è un po' di spazio Ancora Amrabat È passato Cos'è? Calcio di punizione Ma ero davanti alla porta Ma ero davanti alla porta Ma che cazzo fischi Sciaparenco Tiene il possesso In qualche modo Occhio a loro Succe Addirittura Ma che squadrone Che c'hanno Tutte le squadre Lanciando i giocatori clamorosi No Galerz È girato bene Lex 2-1 Gaetano La alza su Rueg Che deve spingere Bravissimo Rueg È passato Vai Rueg Punta al fondo Tocca la dentro Pascal Leone 2-2 Morata Si gira Si gira 3-2 Gaetano Va sul fondo Tocca dietro Su Cech Attenzione Attenzione Ci arriva Robin Gosens Che peccato Era una bella occasione Ma la palla Dove essere migliore Attenzione Che adesso Loro girano bene Con Ederson Potrebbero fare Il quinto gol Che sarebbe clamoroso Bravo Castrovilli Bravissimo Castrovilli Fischia l'arbitro Niente da fare Finisce 4-4 Ci prendiamo un punto Contro l'Atalanta Che all'inizio della partita Ci avrei firmato Fa la tripletta Pascal Leone Subiamo sempre Troppi gol Perché 4 gol Sono troppi Ma il problema È che questa partita Era da vincere Abbiamo subito dei gol Uno più osceno Dell'altro Non mi sorprendo più Ma riesco ogni partita Di incazzarmi sempre di più Questo penso che sia L'episodio in cui Mi sono incazzato Più in assoluto Di tutta la storia Del mio canale Ma quello che sto vedendo Quest'anno Su questo FIFA 23 È assurdo È veramente assurdo